Quando sei nato avevo più domande che risposte, sarei stato un buon padre, sarei riuscito a trasmetterti quegli stessi valori che tuo nonno mi ha passato, sarei stato all'altezza dei tuoi desideri, dei tuoi sogni, della tua passione. Ricordo ancora quando mi hai detto papà voglio fare il calciatore, io ti ho detto soltanto che dovevi meritarlo e che se era davvero il tuo sogno dovevi dimostrarlo giorno dopo giorno, volevo metterti alla prova, perché la passione quella vera non può essere mai facile, non significa solo forza o talento, ma dedizione, sacrificio, impegno. Solo pochi ce la fanno e a volte capita che non sono i migliori, ma questo non conta, quello che conta è ciò che vuoi diventare, come affronterai la vita, come reagirai se cadrai e come trasformerai un fallimento in un successo. Non so se saremo in grado di rispondere a tutte le tue domande, noi ti guarderemo da lontano e ogni volta che ne avrai bisogno saprai sempre dove trovarci.